Me sarò chiesto cento, mille volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in funnarcore e dadosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te già non mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tu digli che te c'ho mannato io. E fa, e fa, e fa, avanti tutti e adesso. Abbiamo fatto piangere in regiazione. E il cappello, famo pure tu. Bravo, bravo, bravo. Continua. Però, però, nell'Italia c'è libertà d'espressione, però, a volte. c'è una parola veramente cazzo. Non ho parole, stanno un sacco di schifosi per strada che non fanno un cazzo, rubano solo soldi, bancarelle, che non c'hanno autorizzazione, non c'hanno niente. Questo sarebbe la canale 5, mettetelo su striscia. Non fatti, su striscia. Ti metteremo su YouTube, stai già su YouTube. Ma che io fanno? Ma che io fanno? Ma che io fanno? Ma che io fanno? Questa è la canale. Allora? No! Sì. 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 Ma gli altri artisti di strada che sono su qui rispetto a lui che devono andare nelle piazze e quello che è visto, quello che è visto? Cioè se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate. Ma vabbè, ma io faccio in trattamento? No, non c'è andato. No, come? No, vado in trattamento? No, come me ne vado. Siamo tutti i testimoni! Sì, io posso farlo. Sì, io posso farlo. Sì. Ok, posso farlo con il mio nome? Sì, posso farlo con il mio nome? Sì, posso farlo con il video? Sì, sì. Sì, sì. Non ti scorda! perché io mi decida di affermi lo sai fatto tutto, io mi sarei ma non ti scordi grazie non lo so ma diamo, sono andati via sì, ho andato a penne hai un penne? no, hai un penne? diamo ho un telefono, puoi scrivere il mio nome sul telefono è un penne, certo è un penne hai un penne? scusi si fai ormai non conta più essere bravi, conta il gossip si è diventato famoso così bravo, è già bravo il nome, il documento è questo, è questo è no, però mi stai sempre aspettando mi stai aspettando quanto sta aspettando? scusi, mica la sto attrattenendo da 24 ore è sempre da tenere arrivederci puoi andare a bere un altro? vada a bere questo è un po' di ragazzo grazie grazie abbiamo Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Hanno messo, hanno chiamato capi della polizia, non so che hanno chiamato, una cosa che a me è molto stupida perché non era una cosa così grave penso, con tutto quello che c'è in giro penso che quello che ho fatto io non era così grave, non era da mobilitare tutta la polizia perlomeno. Giusto, va beh grazie, ciao. Sarai la mia metà ma se non parti diventi un altro bolla mia tre quarti. E va, e va, non puoi sapere piacere che me fa, magari qualche amico di consola, così tu fai la scarpa e lui te sola. Io non sono sola, io non sono sola, solo senza di me.